Gentili telespettatori in Dopo l'ultima partita ricordiamo il derby perso in casa con il Giulianova e va ad affrontare un altro derby questa sera con la quotata formazione adriatica dell'Unibasket Amatori Pescara sempre guidata in panchina da coach Stefano Raiola Unibasket che conta in classifica dopo nove giornate ma in realtà ne ha affrontate solo otto visto che ha già riposato per non aver giocato contro il Lamezia che si è ritirato appunto dal campionato così come per il Campli quindi dopo otto giornate disputate il Pescara a dodici punti in classifica terza alle spalle di Sansevero e Bisceglie Mentre il Campli ancora fermo a quota meno quattro di penalizzazione dopo otto giornate la formazione i ragazzi di Tiziano Tarquini Due quintetti sono scesi sul parquet intanto andiamo a citare il starting five delle due opposte formazioni per quanto riguarda il Pescara in campo Il numero 10 Potì, il numero 17 Capitanelli, il numero 20 Leonzio, il numero 93 Micevic e il numero 12 Caverni Risponde alla formazione Farnese in campo con Capitan Valerio Miglio, Minosevic, Tiam, Bona e Scortica Prima palla da pannaggio della formazione pescarese con Leonzio che ribalta per Potì Cerca subito l'uno contro uno, lo scarico per Capitanelli, errore, poi riprende lo stesso Capitanelli Doppio errore per Capitanelli e dunque va a spegnersi questa prima azione di marca Amatori Per il doppio errore sotto canestro, vicino canestro del lungo 2-0-8 Andrea Capitanelli Adesso è Milosevic che prova da tre, corto il tiro ma cattura lo stesso rimbalzo Milosevic Che va a mettere dentro i primi due punti, primo errore poi subito ha catturato il rimbalzo offensivo Ho messo dentro i primi due punti, Capitanelli chiuso da Vona, Leonzio fischia intanto l'arbitro C'è un fallo attribuito a Vona, primo fallo per Vona Davide Vona alla classe 98 Alla sua nona partita con la maglia del Campli E ora l'assist per Potì che non sbaglia e va subito ad impattare Palleggio Scortica Ha giocato un'ottima partita nella scorsa con l'Ancona, motore di 16 punti Scortica Intanto sbaglia da tre Vona Può riprendere in velocità il Pescara che è ridice da quattro vittorie consecutivi Una striscia molto positiva Ancora Vona, secondo fallo personale per Vona Dicevamo quattro vittorie consecutive per il Pescara Ora c'è un cambio, esce prudenzialmente Potì Qualche problema alla caviglia per Potì E dentro il numero 5 Carpanzano Il sostituto naturale di Potì Una delle figure nuove insieme a Carpanzano Di questa nuova stagione Per la formazione adriatica Che anche quest'anno cerca Chiaramente non solo di agguantare i playoff Ma anche qualcosa di più Una piazza come Pescara Merita questo ed altro Due su due intanto per Micevic Ora è Miglio Ferma il palleggio scarico per Vona In difesa individuale in questi primi minuti Per l'amatori Poi Vona recupera L'embalzo e va a prendersi il fallo da parte di Caverni Dopo l'errore da tre di Giacomo Scortica Primo fallo di squadra per il Pescara e primo fallo all'indirizzo di Caverni Michele Caverni classe 96 Alla sua seconda stagione con la maglia del Pescara Dopo le stagioni in quella di Senigallia Miglio intanto da tre L'errore Poi Micevic a catturare il rimbalzo difensivo E poi ripartire il Pescara con la prima palla in attacco Gestita da Carpanzano Lo scarico per Micevic Ancora Micevic ribaltamento di palla Da tre Tiro aperto per Caverni Che dedica la prima tripla Ai sostenitori pescaresi Giunti in buon numero qui alla Pala Borgognoni Per questa gara Ancora Scortica Resto scarico da due Ottimo il tiro La realizzazione di Giacomo Scortica Meno tre per la formazione Farnese Spinge Caverni in palleggio La chiusura di Scortica Micevic poi Capitanelli Leonzi uno contro uno Supera la guardia di Vona Da mettere dentro I primi due punti Ennio Leonzio Ennio Leonzio che è anche il massimo terminale offensivo Della formazione adriatica Perde palla intanto in attacco Non si intendono Vona e Milosevic E' il fallo E' il terzo fallo di Vona E' pronto il cambio C'è Pecovic Alla sua seconda partita con la maglia del Campri Ha fatto il proprio esordio domenica scorsa Ad Ancona Contro i 12 di coach Marsiliani 92-65 Punteggio finale per la formazione anconetana Sul Campri Dunque dentro Pecovic E' fuori Vona Sbaglia intanto il primo tiro libero A sua disposizione Carpanzano Sul punteggio di 4-9 Fa 1 su 2 dalla lunetta Carpanzano 4 per chi attacca Adesso 10 per chi difende E' Miglio Scarico ma c'è un anticipo di Carpanzano Ai danni di Milosevic Brutto passaggio di Miglio All'indirizzo di Milosevic Lo arpiona Astutamente Leonzio Nuova palla da gestire In attacco per gli uomini di coach Raiola Vuole 1 contro 1 Spalla a canestro Si gira Capitanella Sovrasta Milosevic Ma poi va a sbagliare 0 su 3 per lui Dal campo Per Andrea Capitanelli Capitano della squadra Adriatica Prova da 3 Corto il tiro di Miglio Sul primo ferro Si infrange 0 su 2 per lui Dall'arco De 6.75 Riparte L'Amatori Con Leonzio Caverni Su di lui A chiudere Scortica Poi c'è il cambio Con Tiam Mismatch Capitanelli A chiudere Scortica Cerca di aggirarlo Lo fa Ma commette fallo Poi Scortica Sul gigante Dell'Amatori E il primo fallo Per Giacomo Scortica Rimessa in zona D'attacco dunque Per la formazione Adriatica Si incarica Andrea Capitanelli Lo scarico Per Carpanzano E fallo Netto Di Miglio Primo fallo Per Miglio E time out Subito richiesto Da Tiziano Tarquini Sul 4.10 Dopo il primo fallo Del proprio capitano Andrea Miglio Dicevamo Del Pescara Che viene da 4 vittorie Consecutive Con 12 Punti In classifica Dopo 8 giornate Giocate Una media Punti di 77.2 70.7 Punti subiti Per la formazione Adriatica Pescara Che in casa Ha vinto 3 Volte Su altrettante Tre gare Liquidando il Nardò Il Porto Sant'Elpidio E l'Ancona Mentre fuori casa Due battute d'arresto In campi Difficili Quali quelli di Chieti Nel derby E successivamente Contro la capolista Sansevero Pala Castellana Di Sansevero Mentre La formazione Di coach Raiola Ha vinto il derby A Teramo Poi Ha espugnato Il campo di Corato E domenica scorsa Il campo del Civitanova Quindi tre vittorie esterne Fuori casa Con una media di punti Del 74% Contro i 71 Subiti Lontano Dal pala elettra Per la formazione Di Stefano Raiola Ora i due quintetti Rientrano sul parquet Ed è pronto Carpanzano Numero 5 Della formazione Adriatica Altro volto nuovo Di questa stagione Insieme a Puti E a Micevic E all'ex di turno Alberto Serafini Che ancora non mette Piede in campo Fa due su due Carpanzano E allunga La formazione Di Raiola Sul 4 a 12 C'è il tocco Di Capitanelli Che cercava di anticipare Tiam Sul passaggio Di Miglio 8 punti Dunque da recuperare In questo primo quarto Di questa Sfida Tra le due Formazioni Abruzzesi Ora Tiam Si fa bene Spazio Sotto canestro E va a mettere dentro I primi due punti Tiam Mame Caverni Il raddoppio Su Caverni Lascia libero sotto Micevic Questa volta Va a mettere dentro Il suo quarto punto C'era stato il raddoppio Di Tiam Sul portatore di palla Ma questo aveva lasciato libero Micevic Che ha punito la difesa Farnese Ora Pecovic Va a sbagliare Ma riprende di forza Sotto canestro Correggendo il primo errore Primi due punti per Pecovic Otto a quattordici Due punti realizzati anche Nella prima partita In Maglia Farnese In quel di Ancona Per Pecovic Ora Capitanelli A deludere La marcatura Di Pecovic A mettere dentro I primi due punti Dall'alto dei suoi Due zero otto Fa valere la propria altezza La propria fisicità Andrea Capitanelli Braccia lunghissime Uno dei lunghi più alti Della cadetteria Ancora miglio L'errore dal campo Attura ancora Pecovic Miglio scarico per Tiam Che trova La realizzazione Quarto punto per Tiam Dieci a sedici E pronto sul cubo del cambio Intanto Capitanelli E' il fallo Combinato questa volta A Milosevic E' il primo fallo Sesto Sesto di squadra Esce intanto Scortica dentro De Sanctis Dentro Alberto Serafini Fuori Capitanelli Dunque Mette piede in campo Come avversario Alberto Serafini Serafini Quattro stagioni a Campli Le ultime due come da protagonista Nel Serie B Per lui nella stagione 2016-2017 30 presenze 253 punti realizzati Adesso è Leonzio Percorso netto Dalla lunetta Quattro punti Intanto per Leonzio Due su due Dal campo Due su due Dalla linea di tiro libero Allora Milosevic Il day up Va a realizzare Il suo quarto punto Personale Che ferma il punteggio A 4.08 Sul 10-18 A favore Della formazione Dell'UniBasket Amatori Pescara Minuto di sospensione Questa volta richiesto Da coach Raiola Per quanto riguarda La formazione Farnese In casa Ha giocato Tre partite Il quintetto Di Tiziano Tarquini Tre sconfitte Con Fabriano Bisceglie Giulianova Ma una media punti Realizzata del 60% In casa In attacco Una media punti Subita del 76.3 Fuori casa Cinque le sconfitte Civitanova Nell'ordine Catanzaro Corato Chieti Ed Ancona Con una media di punti Realizzata di pari Al 65.4 Media punti Subita Fuori casa 86.4 Questo il cammino I dati statistici Della formazione Bianco-Rossa Di Tiziano Tarquini Che Cerca di affrontare Sempre al meglio Le squadre Avversarie Ma chiaramente L'esperienza La fisicità E le doti tecniche Di squadre Molto più quotate Si fanno sentire In questo girone Che vede squadre Quasi tutte Bene attrezzate Per cercare Innanzitutto L'acquisizione Di playoff Giungere Nei primi otto posti Per accedere Poi alla post-season Una di queste Appunto è l'amatori Pescara Costruita Per cercare Di contrastare Innanzitutto All'interno di questo girone Lo strapotere Tecnico Della battistrada Sansevero E poi Di arrivare Il più lontano Possibile Nella post-season Non riesce L'anticipo Di Milosevic Ai danni Di Potì Ora Carpanzano Scarico sotto Per Caverni Butta fuori Ancora per Potì Da tre Non va Poi cattura Pekovic Il rimbalzo Sull'errore Dall'arco De 6 e 20 6 e 75 Di Potì Scorso anno Lo ricordiamo Con la maglia Del Nardo Prova ancora Da due Miglio Polveri bagnate Fino a questo momento Per il capitano Farnese Zero su quattro Per lui Dal campo Miglio Scarico Per Pekovic Anzi Milosevic Tabella E canestro Di Milosevic Che riporta il Campli A meno 3 15 A 18 A 3 0 9 Dal termine Di questo primo quarto Non c'è L'anticipo Di Pekovic Prova da tre Caverni Palla sul secondo ferro Scarico sotto canestro L'Amelio Pekovic Che riesce a contrastare Al meglio La palla Ad Serafini Poi perde palla De Santis Caverni Uno contro tre E a canestro Appoggia Potì Quarto punto Per Potì Più 5 Pescara 15 a 20 E ora il fallo In difesa Attribuito A Carpanzano Primo fallo Primo fallo Secondo di squadra Fuori De Santis Dentro Faragalli A 2 minuti e 30 Dal termine E questo primo quarto Campi sotto Di 5 lunghezze 15 a 20 15 a 20 La rimessa Faragalli Per Milosevic Numero 13 In casacca bianca Ancora Faragalli Per Miglio Su di lui A chiudere Carpanzano Poi Milosevic Ancora per Miglio Bisogna andare al tiro Scarica Miglio Palla Che batte Sul ferro Altro errore Proprio allo scadere De 24 Di Valerio Miglio Recupera Pescara 1 contro 1 Penetrazione Carpanzano Scarico Per Il numero 6 Non è entrato De Ustacchio Prima tripla Per De Ustacchio 15 a 23 Faragalli Scarico per Miglio Milosevic Ora 1 contro 1 Cerca di superare La guardia Di Serafini Ottimo Giro sul piedeperno Di Milosevic Che elude la guardia Di un attento difensore Quale Serafini E va a mettere dentro Milosevic Suo nono punto personale Milosevic Carpanzano E' il fallo attribuito a Miglio Secondo fallo Per Valerio Miglio Fuori intanto Minosevic Dentro Il 41 Raicevic Esce Miglio E rientra Scortica E' rivoluzionato Il quintetto Da Coach Tarquini In camina di regia Adesso c'è il numero 7 Faragalli La guardia E' Giacomo Scortica Alla piccola Raicevic Alla forte Picovic Il centro Tiam Mame Dalla lunetta Torna Carpanzano Realizza Per Carpanzano 4 su 5 Dalla linea Di tiro libero 5 su 6 Per Carpanzano 17 a 25 A 1 e 20 Dal termine di questo primo quarto Faragalli Lo scarico per Pecovic Ancora Faragalli C'è il blocco di Tiam Scarico sotto Di Faragalli Per Tiam Che subisce il fallo Di Poti Se ne autoaccusa Prontamente Il numero 10 L'esterno Dell'Unibasket Pescara Primo fallo personale Terzo di squadra Per L'Amatori Rimessa da sotto canestro A 14 secondi Dal termine di questa azione Offensiva Se ne incarica Giacomo Scortica Lo scarico per Faragalli A chiudere su di lui C'è Deustacchio Prodotto del Vivaio Biancorosso Dell'Amatori Rajcevic Ancora per Faragalli Cerca l'uno contro uno Ma terminano I 14 secondi E si perde Con nulla di fatto Quest'attacco Farnese Anche per la buona difesa Nel quintetto Di Raiola Adesso c'è la pressione A tutto campo Negli uomini Di Tiziano Tarquini La pressione Su Carpanzano La parte Di Scortica Che chiude Su Serafini Vicevic Lo scarico Per Carpanzano Poi Serafini Il fallo Attribuito al numero 41 Rajcevic Che frana Su Alberto Serafini Primo fallo Per Rajcevic Dalla lunetta Si riporta Alberto Serafini Realizza Il primo punto Questa partita Serafini A 2 su 2 A 2 su 2 Dalla lunetta Alberto Serafini 17 27 Massimo vantaggio Dell'amatori A 31 secondi Dal termine Di questo primo quarto Più 10 Doppio vantaggio Per gli uomini Di Coach Raiola Faragalli Lo scarico Per Rajcevic Tiri a terra Da 3 Corto Però il tiro Di Scortica Per lui 0 su 2 Da 3 1 su 1 Da 2 Micevic Pronto a rispondere Da 3 Palla sul secondo Ferro E Rajcevic A catturare Il rimbalzo Difensivo E poi Lungo Il lancio Di Rajcevic Con il quale Intendeva servire Tiam Che nel frattempo Era scattato via In Contropiede E ha Un solo secondo Dal termine Va a chiudersi Il Primo quarto Sul punteggio Di 17 A 27 A favore Della formazione Ospite Dell'Unibasket Amatori Pescara Quindi Doppio vantaggio Con queste realizzazioni Per quanto riguarda L'Amatori Pescara Abbiamo 5 punti Per Carpanzano 3 punti Per Deustacchio 2 per Serafini 4 per Potitre Per Caverni 2 punti Per Capitanelli 4 per Leonzio E chiude Micevic Con 4 punti Nel campo 2 punti per Pecovic 2 per Scortica 9 punti Per Minosevic 4 per Tiamame Per un primo quarto Che si chiude Sul 17 A 27 Per la formazione Adriatica Dell'Unibasket Amatori Pescara Che cerca proprio qui Al Palaborgognoni La sua quinta Affermazione Esterna Che chiaramente Farebbe Salire Il Pescara Obiettivo Obiettivo già colto Dalla formazione Pescarese La scorsa stagione Pronto a rientrare il quintetto di Raiola Con Deustachio Leonzio Potì Serafini E Capitanelli Campi con Faragalli Scortica Raicevic Milosevic E Tiam Si riparte dal 17 27 dunque Primo Possesso Per la formazione Farnese Sempre in difesa Individuale Gli uomini Di coach Raiola Tiam Chiuso da Capitanelli Cerca di girarsi Tiam Alza Ma Si infrange sul muro Di Capitanelli Ancora Tiam Sette secondi al termine Dell'azione d'attacco Milosevic Prova da tre Palla Sul secondo ferro Poi Si erge A raccogliere Rimbalzo Difensivo Oti Sull'errore Di Milosevic Ottimo Il backdoor Il quale Capitanelli Intendeva servire Potì Non ha avuto La possibilità Di una giusta ricezione Palla che è uscita fuori Rimessa per la formazione Farnese Che riparte con Faragalli Raicevic Ancora Faragalli A gestire questa palla In attacco Il taglio basso Di Raicevic Lo scarico all'interno Del pitturato Per Milosevic Per linee esterne C'è il prova Scortica Da tre Questa volta Perfora La retina Giacomo Scortica 20-27 Passato un minuto Dall'inizio Di questo Inizio Di secondo quarto È il fallo In attacco Di Serafini Su Scortica Primo fallo Per Alberto Serafini Palla che rientra In possesso Della formazione Farnese Con Giacomo Scortica Lo scarico Per Raicevic Faragalli Vuole Riceve palla Sotto canestro Milosevic Uno contro uno Contro Poti Subisce fallo Milosevic E due tiri Anzi Rimessa Per Il quintetto Farnese Scortica Per Milosevic Lo scarico Ancora per Scortica Prova ancora Da tre Sfiora Il primo ferro Poi si impegna Nel cercare Il recupero Offensivo Milosevic Palla che Esce fuori Dunque Rientra in possesso Della Pescara 20-27 Poti Su di lui A chiudere Raicevic La pressione Di Faragalli Che ruba Palla A Poti La recupera Poi Finalizza il recupero Raicevic Scortica Lo scarico Per Tiam Anticipato da Capitanelli Poi Milosevic Ancora Scortica Ancora Scortica Cerca uno contro uno Per Milosevic Arresto Scarico Su Tiam Il fallo Di Deustacchio Su Tiam Mame Arrivo fallo Per Luca Deustacchio Play classe 99 Altro prodotto Del vivaio Pescarese Scorso anno Per lui 30 presenze 78 realizzazioni Una media di 2.6 La stoppata Di Capitanelli Ai danni Di Faragalli Poi si impegna Nel recupero Ma palla che finisce fuori Milosevic Dunque La stessa rientra In possesso Del Pescara Se ne incarica Questa rimessa Leonzio Massimo terminale Offensivo Dopo 8 giornate Leonzio Egno Leonzio 118 realizzazioni Una media di 14.7 Con un 55% Da 2 38% Da 3 87% Appena la sua percentuale Nei tiri liberi Eccolo Leonzio Qui nel palleggio Su di lui La pronta chiusura Di Scortica Mentre Faragalli Si occupa Di Deustacchio Cerca di liberarsi All'interno del pitturato Capitanelli Scarico Di Deustacchio Per Leonzio Uno contro uno Frana Su Tiam Fallo in attacco Giustamente attribuito A Leonzio Fermo All'interno dello smile Tiam Su lui è franato Letteralmente Leonzio Che va cercato La penetrazione Giusto il fallo attribuito A Leonzio Primo fallo personale Per l'esterno Pescarese Pescarese Riparte così La formazione Farnese Con Faragalli Chiuso da Deustacchio Cerca di rubargli Palla La stessa esce fuori Dal parquet Rimessa Per la formazione Farnese Se n'incarica Se n'incarica sempre Giacomo Scortica Lo scarico Per Faragalli 18 secondi Al termine di questa azione D'attacco Ferma il palleggio Faragalli Gioco alto basso Con Tiam Il taglio Poi riceve Milosevic Che perde palla Nel tentativo Di servire Tiam Che aveva Nel frattempo Effettuato un taglio centrale All'interno del pitturato Potì Il raddoppio su di lui Lo scarico Per Deustacchio Serafini Si alza Dalla lunga distanza Non trova Il canestro Da due Serafini Può ripartire La transizione Farnese Finisce a terra Leonzio Lo scarico Sotto per Milosevic Si alza Scortica Trova La realizzazione Giacomo Scortica Dopo L'errore al tiro Di Serafini 22-27 Porta blocco Capitanelli Per Leonzio Ancora Serafini Leonzio Finta da tre Ancora in penetrazione Lo scarico per Capitanelli A ribaltamento di palla Da tre Prova Deustacchio Non va Miam Tiam Si alza Ma E' più lesto Poi Milosevic Che ruba palla A Serafini E' su Milosevic Il fallo Di Potì E' il terzo fallo Ci sembra Personale Per Potì Fuori Potì Dentro Carpanzano Fuori Leonzio Dentro Il Campli Realizza Jakov Milosevic Sale in doppia cifra In questo secondo quarto Nove Ne aveva realizzati Nel corso del primo quarto Poi contende il rimbalzo Sull'errore di Milosevic Tiam Capitanelli Palla Che sbatte sul piede Del lungo Pescarese Dunque rimessa A giudizio dell'arbitro A favore della formazione Farnese 14 secondi Per andare al tiro 23-27 Campri che è rientrato A meno 4 Rientrato intanto Miglio A sostituire Faragalli Scortica Prova ancora da 3 L'errore Ma cattura Il rimbalzo Lo stesso Scortica Palla Che non viene trattenuta Da Serafini Altra rimessa Per la formazione Farnese Altri 14 secondi Rajcevic Lo scarico Per Miglio Buona la guardia Di Serafini Su Milosevic 5 secondi Tiam Va a prendersi La stoppata Di Capitanelli Poi è Caverni Che fa tutto il campo Cost to cost Ma va a sbagliare L'appoggio a canestro Altra riconquista Di palla Da parte del Pescara E altro errore Da parte Questa volta Di Serafini Doppio errore Prima di Caverni E poi Di Serafini Pronto nuovamente Leonzio Sul cubo del cambio Rajcevic Ma va a farsi stoppare Questa volta Da Carpanzano Un tiro Un'esecuzione Del tutto fuori ritmo Quella di Rajcevic In vista Anche La buona posizione Del difensore E poi da tre Capitanelli A chiudere Con un canestro pesante Dopo il doppio errore In transizione Nella formazione Pescarese 23 a 30 23 a 30 Lampante Lampante Come nelle ultime Due esecuzioni A canestro Prima di Tiam E successivamente Di Rajcevic A difesa schierata Con l'uomo addosso Ma chiaramente Rispetto Alla prima Partita In quella Di Civitanova Tanti Progressi Sul campo Sono stati fatti Grazie anche Al lavoro Settimanale Dello staff Tecnico Comandato da Tiziano Tarquini E col passare Delle giornate Questi ragazzi Stanno crescendo Sia di mentalità Che come presenza Sul parquet Non lasciandosi Intimorire anche Da avversari Ben più Esperti E Più forti Sia fisicamente Che tecnicamente Questa volta Miglio A superare La guardia Di Caverni E a mettere I primi due punti In Cascina Valerio Miglio A 4.50 Campli Che rientra A meno 5 Capitanelli Scarico per Serafini Prova da 3 Carpanzano Non va Lotta sul rimbasso La spunta Rajcevic Primo errore Dal campo Per Carpanzano Che ha realizzato Solo Su Tiro libero Ora Scortica Smarca Rajcevic Dall'altro lato In post basso Si alza E va A mettere dentro I primi due punti 27 a 30 Ritorna A meno 3 Il Campli Quando sulla sedia Del cambio C'è pronto Micevic Capitanelli Questa volta Il fallo Di Pecovic Ai danni Di Capitanelli E il primo fallo Per Pecovic Esce Serafini Dentro Micevic Autore di 4 punti Nel corso del primo quarto Eccolo Micevic Eccolo Micevic In A2 Sul 27 Sul 27 a 30 Rimessa Della quale Si incarica Leonzio Lo scarico Per Caverni Scarico Sotto Per Carpanzano La stoppata Di Milosevic Ai danni Di Carpanzano Scarico Di Miglio Per Pecovic Poi Si palleggia Sul piede Pecovic Dunque Palla Che esce fuori E dunque Altra rimessa Per Il Pescara Ottimo Il gesto Atletico Di Milosevic Sicuramente L'elemento Più tecnico All'interno Del quintetto Farnese Jakov Milosevic Caverni Frazione Non ravvisata Ai danni Di Caverni Poi E Leonzio Da 3 Che Scalda La mano Dall'arco De 6 E 75 La sua specialità Migliore 27 a 33 Ferma Il palleggio Milosevic Lo scarico Per Miglio C'è un fallo Su Miglio Non ravvisato Poi L'assist Per Tiam Che trova Il suo Sesto punto Personale 29 a 33 A 2 56 Ancora Leonzio Su di lui A chiudere Scortica Spalle a canestro Mise Micevic Ancora Leonzio Micevic 5 secondi Per andare al tiro Forza Sia un attacco Sia un attacco In attacco che in difesa Il giovane esterno Classe 99 Prodotto Del vivaio Bianco Rosso Due anni fa Campione Regionale Under 18 Con la maglia Del Campi Uno dei massimi Protagonisti E dalla lunetta C'è pronto Milosevic 10 punti Per lui 9 realizzati Nel corso Del primo quarto Siamo entrato Negli ultimi Due minuti e mezzo Prima dell'intervallo Lungo Qui Al palaborgonioni Di Campi Realizza Milosevic 30 33 2 su 2 Si riporta Meno 2 La formazione Farnese A 2 27 Sta reggendo Molto bene Il campo Dopo questi primi 20 minuti Ora il taglio Solitario Di Micevic La mancata chiusura Di Milosevic Che se ne autoaccusa E Micevic Che punisce La difesa Farnese 31 35 Con il canestro Di Micevic Si riporta Più 4 Ora Raicevic Prova da 2 Trova il fondo Della retina Raicevic Quarto punto personale 33 A 35 Al canestro Di Micevic Risponde Raicevic Poi l'anticipo Di Tiam Parte la transizione Farnese Farnese Pinta 35 Cercando Sottocanestro il rimbalzo di Milosevic, doppio errore, prima da tre di Caverni e poi da due di Capitanelli. Rajcevic ferma il palleggio, esce dal blocco, riceve Amiglio, cerca di superare la guardia di Carpanzano e Amiglio va a siglare il sorpasso Farnese. 37 a 35, a 42 secondi dal termine, Miscevic scarico sotto per Capitanelli, chiuso da Tiammame, cerca di girarsi Capitanelli, trova la realizzazione Andrea Capitanelli, impatta il Pescara. 37 a 37, a 21 secondi dalla termine, questa è l'ultima azione per la formazione Farnese, chiama gioco d'attacco, 4 basso Valerio Miglio, palleggio, cerca di superare la guardia di Carpanzano, lo scarico sotto per Tiammame, la stoppata di Capitanelli a 3 secondi, poi Miscevic, palla che esce fuori, a 3 decimi dalla termine e si rientra nello spogliatoio. E voleva giustamente un fallo Coac Tarquini, un fallo che ci è sembrato più che netto di Capitanelli ad anni di Tiamm, così non è stato a giudizio dell'arbitro. E termina il secondo quarto con le squadre che rientrano negli spogliatoi in perfetta parità, 37 a 37, il Campli gioca a visaperto con il più quotato Pescara e punteggio in perfetta parità questi tabellini dei primi due quarti per quanto riguarda il Pescara. 5 punti per Carpanzano, 3 per Deustacchio, 2 per Serafini, 4 per Potì, 3 per Caverni, 7 punti per Capitanelli, 7 punti per Leonzio, 6 punti per Miscevic nel Campli, 2 punti per Pecovic, 7 punti per Scortica, 12 punti per Minosevic, 8 per Tiamm, 4 punti per Miglio e chiude Raicevic con 4 punti. Dunque noi gentili telespettatori vi diamo appuntamento al terzo quarto, ribadendo il parziale dal Palaborgognoni, Campli Basket 37, Unibasket Amatori Pescara 37. Gentili telespettatori rientriamo qui al Palaborgognoni di Campli per commentarvi il terzo e il quarto quarto di questo confronto valevole per la decima giornata del girone di andata in questo derby tutto abruzzese tra Campli Basket, Nino Niannuzio, Unibasket Amatori Pescara 37 a 37, il parziale dei primi due quarti, il Campli che non ti aspetti ha firmato un secondo quarto migliore di tutte queste gare fatte registrare qui al Palaborgognoni un parziale di 20 a 10 che in pratica ha riportato in pieno equilibrio questa sfida con la formazione adriatica del Pescara chiaramente nel corso di questo intervallo lungo coach Raiola avrà strigliato a dovere i propri giocatori che nei primi due quarti hanno avuto una scarsa propensione nel tiro da due infatti la percentuale è registrata del 44% contro il 67% della formazione Farnese che tira dopo otto giornate con il 46% da due punti dunque un'ottima performance da due punti nel tiro da due punti per il quintetto di Tiziano Tarquini meglio ha fatto il Pescara nel tiro da tre con 33% contro il 18% della formazione Farnese che poi ha avuto anche supremazia nelle carambole nei rimbalzi 19 a 9 il computo totale dopo i primi due quarti ad appannaggio del quintetto di Tiziano Tarquini che dunque merita questa parità per quel che ha fatto vedere nel corso del secondo quarto i ragazzi di coach Tarquini hanno messo in campo tutti quei progressi fatti registrare giornata dopo giornata e ora vediamo come interpreteranno questo terzo quarto al cospetto del più quotato Pescara che torna sul parquet con Carpanzano, Leonzio, Poti, Serafini, Capitanelli primo palla a favore degli ospiti Campi che risponde con De Santis, Miglio, Raicevic, Tiam e Milosevic primo canestro del Pescara per mano di Poti 37 a 39 e primo attacco di questo terzo quarto per la formazione Farnese non riesce all'anticipo di Serafini ai danni di Milosevic finta da tre, De Santis vuole l'uno contro uno resta il palleggio, lo scarico per Miglio si alza da tre, palla sul primo ferro ottimo l'intervento di Raicevic che comunque non riesce a contender palla ai lunghi del Pescara la stessa esce fuori dunque rimessa per la formazione di Raiola che torna a mettere il naso avanti in questo inizio di terzo quarto ancora Poti, scarico da due trova la seconda realizzazione otto punti per Poti 37 a 41 a meno di un minuto si riporta più quattro il Pescara con la doppia realizzazione di Alessandro Poti e il fallo in attacco attribuito a Milosevic tanto c'è la sostituzione fuori Raicevic dentro Scortica per Milosevic e il secondo fallo personale e riparte il Pescara 37 per chi difende 41 per chi attacca Leonzio, scarico sotto per Poti alza nuovamente la parabola è lungo l'appoggio verso Canestro poi è Serafini tre su di lui l'errore di Serafini riprende Scortica dunque doppio errore in attacco prima di Poti e poi di Serafini che ora però riconquista palla va a mettere dentro i primi due punti e più c'è il fallo di Milosevic è il secondo fallo per Milosevic e dalla lunetta il tiro aggiuntivo per Serafini realizza Alberto Serafini Quinto punto per lui 37 a 44 cerca subito l'allungo il Pescara Miglio supera la guardia di Capitanelli e va a mettere dentro splendidamente il suo sesto punto personale Valerio Miglio 39 a 44 Poti su di lui a chiudere Scortica esce dal blocco Leonzio poi pick and roll con Capitanelli il reverse non va di Capitanelli e strappa letteralmente palla Miglio dalle mani di Leonzio prova da tre non trova la tripla Milosevic scheggia il primo ferro il tentativo di Milosevic poi Leonzio il fallo di Scortica ai danni di Leonzio e il secolo contro uno lo scarico per Capitanelli che questa volta non sbaglia dopo l'assist al bacio di Leonzio settimo punto personale per la torre pescarese Andrea Capitanelli De Sant'Ix lo scarico per Miglio si alza prova da tre Miglio buca la retina Valerio Miglio nono punto per lui 42 a 46 dopo tre minuti campi sotto di quattro lunghezze Leonzio uno contro uno e perde palla questa volta Leonzio ha cercato la penetrazione sulla linea di fondo cercando magari un passaggio proprio all'interno del pitturato per Capitanelli chiuso bene nella circostanza con buoni raddoppi la difesa organizzata da Tiziano Tarquini e riparte con De Santis la formazione Farnese Scortica in palleggio ferma lo stesso Scortica lo scarico per Milosevic ancora per Scortica si alza da tre non va Serafini arpiona il rimbalzo difensivo poi parte in palleggio lo stesso Alberto Serafini dopo l'errore di Giacomo Scortica aggressivo in difesa a De Santis c'è il fallo dello stesso Matteo De Santis un fallo attribuito a De Santis le proteste di Tiziano Tarquini per Matteo De Santis il primo fallo personale dunque rimessa per la formazione del Pescara spalle a canestro Potilo scarico per Serafini che va a schiacciare quinto punto per Alberto Serafini anzi settimo punto per Serafini 42 a 48 il punteggio Scortica su di lui a chiudere Potì sempre in difesa individuale gli uomini di Raiola esce dal blocco riceve De Santis a Ricciolo lo scarico per Milosevic sul primo ferro il tagliafuori di Serafini l'errore di Milosevic poi è Capitanelli che va ad appoggiare a canestro dopo l'errore da tre di Milosevic e Tiam ribaltamento di palla per Miglio sulle sue tracce Carpanzano perde palla poi Miglio nella ruba Carpanzano è il fallo intenzionale attribuito a Carpanzano che ha trattenuto Miglio a terra si tiene il polso Valerio Miglio cerca delle scusanti che non ha il numero 5 Carpanzano netta la sua trattenuta ai danni di Miglio c'è poco da protestare giusta l'interpretazione arbitrale aveva rubato palla Carpanzano e poi ha commesso questo fallo che porta la lunetta Valerio Miglio primo tiro sbagliato da parte della capitano della formazione Farnese siamo sul 42 a 50 fa 1 su 2 dalla lunetta Miglio è rimessa a favore della formazione Farnese che ora deve recuperare sette lunghezze stiamo entrando nella seconda metà di questo terzo quarto qui al palla Borgognoni Miglio lo scarico per De Santis a chiudere su di Leonzio poi Scortica Tenterricciolo palla che viene che torna nelle mani di De Santis poi il tiro di Milosevic proprio allo scadere ma c'è il fallo attribuito a Tiam un fallo che molto abilmente ha visto solo l'arbitro cerca di mordersi la maglia per non dire qualche salto all'arbitro Tiam il fallo di Tiam porta alla lunetta Capitanelli Quinto punto per Capitanelli questo terzo quarto 43 a 51 fa due su due dalla lunetta Capitanelli 43 a 52 più nove per il Pescara Scortica scarico per Milosevic Miglio nel pitturato uno contro uno Valerio Miglio aveva fatto un'ottima cosa poi sbagliato però l'appoggio al canestro e il fallo di De Santis in difesa per Matteo De Santis il secondo fallo personale ha raggiunto già il bonus il Campli quindi alla lunetta si porta questa volta a Leonzio per cercare di allungare il vantaggio esce intanto Milosevic dentro Raicevic nel Campli partito bene in questo terzo quarto il Pescara mettendo pigiando il piede sull'acceleratore parziale di 16 a 6 inizio di terzo quarto 17 a 6 dopo il percorso netto di Leonzio dalla lunetta 43 a 54 a 4 e 54 dal termine Raicevic viene stoppato al momento del tiro da parte di Serafini è il fallo in attacco attribuito a Serafini secondo fallo personale per Serafini anche in questa circostanza un'interpretazione del tutto personale da parte del direttore di gara pronto Faragalli sul cubo del cambio De Santis per Scortica si libera dal blocco ed esce riceve Miglio 8 secondi per andare al tiro lo scarico di Miglio per Tiam ma recupera la difesa del Pescara con Serafini nuovamente a schiacciare Alberto Serafini nono punto per Serafini 43 a 56 vola più 13 il Pescara e il fallo questa volta va a prendersi il fallo De Santis fallo attribuito a Serafini terzo fallo personale per Alberto Serafini c'è il cambio dentro Micevic per Serafini fuori Carpanzano dentro Caverni dentro Faragalli nel Campli e fuori De Santis terzo fallo di squadra per il Pescara dentro dunque Faragalli rimessa in zona d'attacco per il quintetto Parnese a 4.06 sul 43 a 56 più 13 per il Pescara Miglio per Raicevic scarico per Scortica cerca uno contro uno poi si arresta ma a prendersi la stoppata di Potì riparte il Pescara con Micevic Potì piedi a terra da tre non va recupera poi Leonzio la pressione di Faragalli su di lui porta blocco Capitanelli Leonzi uno contro uno alza la parabola non trova la realizzazione doppio errore del Pescara prima di Potipo di Leonzio arresto prova da due Scortica solo rete per Giacomo Scortica nonno punto per Scortica è il fallo di Faragalli su Caverni è il primo fallo per Faragalli il fallo di Faragalli porta all'anonetta il nuovo entrato Caverni a 3.26 sul 45 a 56 realizza Caverni quarto punto personale per Caverni uno su tre da 3.0 su uno da due fa due su due dalla lunetta Caverni 45 a 58 il nuovo parziale Faragalli per Tiam esce dal blocco e riceve Emilio palleggio Valerio Miglio ferma il palleggio lo scarico per Faragalli al centro per Tiam la stoppata di Capitanelli all'indirizzo di Tiam e terminano i 24 secondi e chiaramente la fisicità del Pescara con Micevic Capitanelli Potì si fa sentire in questo terzo quarto esce con preponderanza la forza d'urto il tonnellaggio del quintetto di Raiola poi Capitanelli di forza in penetrazione va a mettere dentro il suo settimo punto personale massimo vantaggio 45 a 60 Miglio prova da due ancora una volta la buona intuizione di Valerio Miglio dodicesimo punto per lui 47 a 60 2 27 dal termine di questo terzo quarto Campli che deve recuperare 13 lunghezze Poti su di lui a chiudere Miglio lo scarico sotto per Capitanelli Micevic spalle a canestro il raddoppio su di lui libera Caverni scarica ma il tempo è finito tempo che era finito prima del tiro di Capitanelli ma il canestro prima del tiro di Caverni ma il canestro viene convalidato incredibile l'errore arbitrale poi Giacomo Scortica con un ottimo passo di avvicinamento va a mettere dentro il suo nono punto personale Micevic misura di Rajcevic e fallo in attacco attribuito a Micevic primo fallo per Micevic canestro di Caverni ben oltre il termine dei 24 secondi i giudici di tavolo che non chiamano gli arbitri per questa svista clamorosa comunque 49-62 o 1-32 dal termine di questo terzo quarto qui al Palabor Gognone di Campli Scortica uno scarico per Rajcevic spaglia canestro riceve ottimo gioco a 2 sull'asse Bekovic Rajcevic il duo Montenegrino va a realizzare Rajcevic e trova anche il fallo di Capitanelli secondo fallo personale va la lunetta Rajcevic per lui 6 punti sul 51-62 ottima giocata percorso netto per Rajcevic 52-62 rientra meno 10 il Campli a 1-14 attacco Pescara con Deustacchio lo scarico per Caverni alto passo con Capitanelli frontale per Micevic Leonzio Deustacchio alza la parabola non va Micevic cattura l'imbalzo e trova poi il fallo dopo l'errore di Deustacchio fallo attribuito al numero 8 Pekovic fallo di Pekovic il terzo fallo porta alla lunetta Micevic sul 52-62 primo errore dalla lunetta per Micevic che ha 2 su 3 a cronometro fermo fa 1 su 2 nella circostanza Micevic 52-63 a 53 secondi dal termine di questo terzo quarto con la reazione del Pescara dall'uscita degli spogliatoi ottimo l'allungo ha cercato un gran canestro Giacomo Scortica ma è stato sfortunato nella circostanza il ragazzo Farnese palla veramente sputata fuori dal ferro 10 secondi al termine di questa azione attacco per il Pescara Deustacchio scarico per Caverni fitta da 3 poi viene circondato dai difensori Farnesi Leonzio prova da 2 ma termina questa volta il tempo difende bene nella circostanza la difesa Farnese come era successo poc'anzi nel canestro irregolare di Caverni ma dato buono dall'arbitro fronteggia nel migliore dei modi anche in questo terzo quarto la corazzata pescarese i ragazzi di Tiziano Tarquini la penetrazione di Scortica poi Caverni cerca la preghiera e quasi va a canestro il tiro di Caverni e sul tiro di Caverni termina il terzo quarto sul punteggio di 52 a 63 dunque termina il terzo quarto sul parziale di 52 a 63 per la formazione pescarese che in questo terzo quarto ha impresso maggiore velocità maggiore fisicità sia in attacco che in difesa e quindi ha avuto questo break un doppio vantaggio secondo quarto ricordiamo che si era concluso sul 37 a 37 quindi 26 a 15 di parziale in questo terzo quarto a favore della formazione di Stefano Raiola che ora rientra sul parquet con Deustacchio Caverni Leonzio Serafini Micevic risponde il Campli con Faragalli Scortica Miglio Raicevic e Pecovic dunque ultimo quarto qui al Palaborgognoni deve gestire 11 punti di vantaggio il Pescara prima palla ad appannaggio della formazione Farnese Miglio sempre in difesa individuale il Pescara Caverni sulle tracce di Valerio Miglio che ha disputato un ottimo secondo e terzo quarto scivola adesso palla dalle mani di Scortica rimessa per il Pescara dunque si perde con un nulla di fatto il primo attacco dell'ultimo quarto della formazione Farnese Leonzio servito da Deustacchio lo scarico sotto per Micevic e poi il reverse di Micevic l'errore dello stesso Micevic poi il passaggio di Serafini per Caverni l'anticipo di Pecovic ai danni di Micevic parte la transizione Farnese con Faragalli Miglio uno contro uno Scortica si arresta lo scarico per Pecovic lungo il tiro di Pecovic primo errore di questo ultimo quarto per Pecovic Leonzio va a sbagliare poi Scortica liberare per Raicevic arresto tiro da tre di Raicevic palla considerata due il tiro di Raicevic si infrange sul primo ferro non si segna in questo inizio di ultimo quarto sul cubo del cambio intanto è pronto Carpanzano Leonzio prova da tre tabella e canestro di Leonzio poi fallo tecnico di Leonzio fallo tecnico fischiato a Leonzio aveva detto qualcosa all'arbitro dopo il tiro dalla distanza andato a segno da parte di Leonzio 52 a 66 dalla lunetta e Scortica realizza Giacomo Scortica dodicesimo punto personale per Scortica e palla in possesso della formazione farnese sul 53 a 66 pronto Vona a sostituire Raicevic Pucanzi è uscito Miglio per fare spazio a Milosevic arresta il palleggio Scortica poi il taglio di Faragalli ancora per Scortica su di lui a chiudere Caverni 9 secondi al termine Scortica lo scarico per Vona 5 secondi al termine prova da distanza siderale Milosevic palla che batte sul primo ferro nulla di fatto e dunque si chiude questa opportunità per la formazione farnese stringe bene le maglie difensive il Pescara non vuole più distrazioni coach Raiola ha strigliato ben per bene i suoi percorso del secondo quarto rientro negli spogliatoi coach Raiola l'errore intanto in penetrazione di Caverni poi la rimessa in zona d'attacco per la formazione Farnese il minuto di sospensione richiesto da coach Tarquini che ora cerca di riordinare un po' l'idea ai suoi ragazzi specialmente in chiave offensiva visto anche la cresciuta intensità difensiva della formazione del Pescara che ora comanda nel punteggio 13 lunghezze avanti 53 a 66 per il quintetto di Stefano Raiola che cerca dunque di chiudere senza particolari patemi d'animo questa questo confronto di questa decima giornata del girone di andata di questo girone C della serie B questo derby abruzzese tra Campri e Pescara termina il time out chiesto da Tiziano Tarquini pronto il rientro in campo del quintetto Farnese con Faragalli Scortica Vona Milosevic Tiam risponde il Pescara con Deustacchio Caverni Carpanzano Potì Potì Serafini la coppia interna adesso Potì Serafini nel Pescara Potì molto probabilmente assumere la posizione di 4 e 5 quella di Serafini lo scarico di Scortica per Tiam il ritardo nella chiusura di Serafini e Tiam che va a punire la difesa del Pescara adesso Potì cerca una corsia va a sbagliare ma trova il fallo di Milosevic finisce a terra Potì fallo di Milosevic e il terzo fallo personale di Milosevic porta alla lunetta Potì due tiri liberi a disposizione per l'esterno del Pescara Alessandro Potì realizza il primo tiro Potì nono punto per Potì fa due su due dalla lunetta 55 a 68 ristabilisce le 13 lunghezze di distacco Potì dalla lunetta Milosevic perde piano palla gli alla ruba Potì aveva cercato l'uno contro uno Milosevic bene appostato Potì l'esperienza ruba palla Milosevic ora Carpanzano uno contro uno fischia l'arbitro l'infrazione di passi attribuito a Carpanzano si perde dunque questa opportunità per l'irregolarità culminata a Carpanzano e riparte il quintetto Farnese con Scortica blocco tra Faragalli e Tiam ferma il palleggio Scortica lo scarico per Milosevic si alza da tre ma è corto il tiro di Milosevic può partire in transizione il Pescara ma rientra prontamente in difesa il quintetto di Tieziano Tarquini Potì vinta da tre poi vuole uno contro uno lo scarico sotto per Serafini fischia l'arbitro e c'è il fallo questa volta su Serafini fallo attribuito al numero sette Faragalli è il secondo fallo fuori Scortica dentro Miglio 6 e 37 55 per chi difende 68 per chi attacca rimessa del Pescara Caverni su di lui a chiudere Miglio lo scarico per la tripla di Alessandro Potì scalda la mano dall'arco dei 6 a 75 55 a 71 un nuovo parziale Vona scarico per Milosevic uno contro uno Milosevic di forza fa questa volta realizzare il suo quattordicesimo punto Miglio miglior realizzatore dei suoi Caverni lo scarica ancora per Potì su di lui a chiudere Miglio prova ancora da tre Potì questa volta palla sul secondo ferro poi Serafini errore di Serafini prima di Potì da tre poi di Serafini Faragalli ha un difficoltoso controllo di palla poi riesce serve Tiam spalla a canestro cerca di girarsi Tiam alza la parabola non va recupera il rimbalzo offensivo Milosevic si alza da tre Vona e trova la tripla Vona attacco Pescara con Carpanzano uno contro uno cerca di superare la guardia di Vona va a sbagliare Carpanzano e cattura il rimbalzo la formazione Farnese ancora Vona lo scarico per Faragalli su di lui a chiudere Deustacchio portablocco Milosevic dieci secondi al termine di questa azione d'attacco lo scarico sotto per Milosevic spalla a canestro e c'è il fallo di Deustacchio gioca bene il mismatch contro Deustacchio Milosevic lo induce al fallo adesso alza il quintetto Raiola dentro Capitanelli fuori Deustacchio il secondo fallo per Deustacchio dentro De Santis fuori Faragalli 60-71 il parziale a 4-54 dal termine rimessa in zona d'attacco per la formazione Farnese Milosevic si alza prova da 3 primo ferro Vona cattura il rimbalzo ma poi la palla finisce nelle mani di Capitanelli e dunque Carpanzano gestire questa nuova manovra offensiva uno contro uno Carpanzano supera la guardia di Tiam ma questa volta si riscatta mettendo dentro un ottimo canestro 60-73 4-29 torna più 13 il vantaggio del Pescara Miglio supera la guardia di Carpanzano il fallo dello stesso Carpanzano ai danni di Valerio Miglio secondo fallo personale richiama a sé Coach Tarquini Tiammame rimessa in zona d'attacco visibilmente contradiato dalla precedente azione offensiva dalla mancata copertura sulla penetrazione di Carpanzano di Carpanzano il Ricciolo di Miglio alza la parabola palla che si infrange sul ferro e riparte la Pescara e poi Vona a commettere fallo su Potì è il quarto fallo per Vona Valerio Vona quarto fallo 3 ne aveva commersi in dapida successione nel corso del primo quarto il fallo di Vona porta la lunetta Alessandro Potì guardia classe 91 lo scorso anno con la maglia del Nardo per lui 29 presenze 473 realizzazioni una media di 16.3 Potì che tira con 75% dalla linea di tiro libero conferma l'alta percentuale anche stasera la palla Borgognoni Alessandro Potì 60-75 prova ancora da tre palla ancora sul primo ferro polveri bagnate questa sera per Jakov Milosevic dall'arco dei 6 e 75 ancora Carpanzano scarico per Capitanelli tiro aperto da tre l'errore poi Potì cattura il successivo rimbalzo l'extrapossesso per il Pescara dopo l'errore dall'arco dei 6 e 75 di Capitanelli alza Serafini da due non va e cattura il rimbalzo De Santi sull'errore di Serafini Miglio scarico per Vona piedi a terra prova da tre ancora Vona ancora Vona perforare la retina del Pescara è il minuto di sospensione questa volta richiesto dalla panchina di Coach Raiola sul 63 a 75 ma solo applausi per questi ragazzi magistralmente diretti in panchina da Coach Tiziano Tarquini che stanno contendendo per 40 minuti la gara ad un più quotato squadrone come quello dell'amatori basket Pescara squadra costruita per cercare innanzitutto l'accesso il più alto possibile nella post season e poi attaccare e farsi valere lì per cercare di agguantare la seconda serie nazionale questo è il disegno della strutturata società adriatica 63 a 75 ma i ragazzi di Tiziano Tarquini questa sera dopo la sconfitta in quel di Ancona e ancora una settimana di lavoro sulle spalle hanno dimostrato grossi progressi rispetto all'inizio del campionato squadra giovane età media sotto 19 anni dunque la tifoseria Farnese non può che affezionarsi a questi ragazzi che danno più del cento per cento in campo per cercare quella prima vittoria in questo difficile campionato all'interno di questo attrezzatissimo girone c'era passi di caverni ma il fallo attribuito a miglio altra decisione contestata che è contestabile da parte dei due direttori di gare chiude bene De Santis sull'iniziativa di Caverni e poi il netto il fallo in attacco spinge il diretto avversario poti il quarto fallo per Alessandro poti a 3-0 3-63 a 75 dunque palla che rientra in possesso della formazione Farnese dopo l'irregolarità in attacco commessa dall'esterno pescarese Alessandro poti De Santis spinge scarico per Milosevic ancora De Santis per Bona Miglio lo scarico sotto di Milosevic per Tiam ma c'è il recupero di Caverni scarico per Serafini che va ad appoggiare a canestro due punti facili per Serafini i primi due punti in questo ultimo quarto per Alberto Serafini ex di turno Bona vuole uno contro uno poi lo scarico per Miglio all'interno del pitturato scarico sotto per Tiam e la reverse di Tiam che risponde al canestro di Serafini 65 a 77 a 2-18 morde ancora la squadra Farnese il fallo di Miglio sul Leonzio quarto fallo di squadra per quarto fallo personale per Valerio Miglio che si fa prontamente a scusare con Egno Leonzio due tiri liberi per Leonzio 12 punti per il massimo terminale offensivo della formazione pescarese Leonzio 13 punti per lui Leonzio che tira con l'87% dalla lunetta percorso netto per Leonzio 65 a 79 a 2-08 riparte la formazione Farnese con Miglio pronto scortica sul pupo del cambio scarico per Milosevic 10 secondi al termine la Ricciolo di Buona al resto alza la parabola da 2 palla sul secondo ferro con l'intuizione di Buona palla però che si infrange sul ferro del canestro e dunque rientra in possesso di palla il Pescara con Serafini scarico sotto per Capitanelli lontano da canestro Leonzio 3 secondi alla chiusura dell'azione va a sbagliare Leonzio cattura il rimbalzo Milosevic lo scarico per De Santis vuole giocare saggiamente palla Matteo De Santis Tiam lo scarico per Miglio cerca l'uno contro uno all'interno del pitturato alza la parabola e trova la realizzazione ancora una volta un ispiratissimo Valerio Miglio 67 a 79 a un minuto esatto dal termine e poi la passeggiata di avvicinamento a canestro questa volta non funziona la difesa farnese va ad appoggiare a canestro tranquilli in scioltezza e tranquillità Caverni undicesimo punto per Caverni 67 81 il nuovo parziale a 56 secondi dalla termine di questo confronto qui alla pala Borgognoni di Campli tra Campli e Pescara partita che ormai volge al termine così come da pronostico il Pescara la fa sua ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie la formazione di Raiola che questa sera non ha espresso chiaramente la migliore pallacanestro così come aveva giocato da autorità di intensità la settimana scorsa Civitanova conquistando una vittoria perentoria ai danni del quintetto dell'ex coach farnese Piero Millina 62 a 79 da autorità sul campo di Civitanova il campo specialmente per i primi due quarti ha conteso palla su palla al Pescara chiudendo rientrato negli spogliatori addirittura sul 37 pari poi 15-26 di contro break nel terzo quarto della formazione pescarese e ora siamo su 67 81 proprio negli ultimi 50 secondi quando viene fischiato questo fallo di Caverni sulla penetrazione di De Santis secondo fallo personale per Caverni fuori Serafini dentro Deustacchio e dalla lunetta c'è Matteo De Santis che può lasciare i primi punti in questa gara firmare i primi punti dalla lunetta il play anche gli prodotto del vivaio Farnese primo tiro sbagliato dalla lunetta per Matteo De Santis anche gli classe 99 fa uno fa uno su due dalla lunetta De Santis 68 a 81 a 45 secondi dal termine Deustacchio la pressione di De Santis blocco di Capitanelli ancora per Deustacchio poi ribaltamento di palla Potì Caverni si alza da tre non trova la tripla e Tiam che sovrasta Capitanelli parte scortica uno contro uno lo scarico ma è pronto a recuperare la difesa del Pescara e poi la schiacciata di Capitanelli a chiudere e ad archiviare questo confronto 68 83 ultimazione d'attacco per la Campri Bona ferma il palleggio lo scarico per Tiam può andare da due alza la parabola Tiam palla sul secondo ferro palla che poi esce fuori ultima a toccare e Milosevic a un secondo e sette decimi si chiude qui il confronto tra Pescara e Campri 68 a 83 il punteggio finale escono sconfitti ma ancora una volta a testa alta i ragazzi di Tiziano Tarquini 15 punti di margine tra le due formazioni il Pescara sigla così la quinta vittoria consecutiva e sale a quota 14 in classifica generale attendendo gli altri risultati dai campi di questo giro della Serie B questi intanto i tabellini questa volta finali di questo confronto valevole per la decima giornata del girone di andata per quanto riguarda il Pescara Carpanzano sette punti Deustacchio tre Serafini 11 Potì 15 Caverni 11 Capitanelli 15 poi abbiamo Leonzio 14 punti e chiude Micevic con sette punti per quanto riguarda invece la formazione Farnese queste le realizzazioni un punto per De Sanctis 2 per Pekovic 12 punti per Scortica 14 per Milosevic poi abbiamo 12 punti per Tiamame 6 punti per Vona 14 per Miglio Miglio realizzatore insieme a Milosevic e chiude Raicevic con sette punti dunque noi gentili telespettatori ci congediamo da voi ribadendo il finale dal Palaborgognoni di Campli Unibasket Amatori Pescara batte Campli Basket Nino D'Annunzio con il punteggio finale di 83 a 68 da Flavio Santori a voi tutti la più cordiale buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti